In seguito alla grave pandemia Covid-19, tutti gli ospedali pubblici e privati hanno adottato misure preventive particolari per proteggere il personale sanitario da contagi, non solo in maniera diretta da uomo a uomo, ma anche attraverso le superfici e tutto ciò che è stato precedentemente a contatto con pazienti Covid. La COT dal 17 aprile 2020 è diventata Covid-Center e Covid-Hospital, con un accordo con l'assessorato alla Regione in aiuto al Policlinico Giacovid per la cura di malati affetti da questo virus. Per eseguire correttamente tutte le procedure medicali e di servizio per un ospedale Covid-Center, la COT ha adottato una procedura particolare anche per maneggiare e conferire i rifiuti speciali alla ditta di riferimento per lo smaltimento in modo corretto e senza rischi. La ditta di riferimento AB Ambiente ci ha fornito tutte le indicazioni per inscatolare e conferire correttamente tutto ciò che riguarda i rifiuti Covid-19, come da Ordinanza Regionale Siciliana numero 1 barra RIF del 27 marzo 2020. La Direzione Sanitaria della COT ha altresì applicato tutte le procedure indicate nella comunicazione dell'assessorato della salute della Regione Siciliana, protocollo numero 16.711 del 1 aprile 2020, sulla protezione al personale addetto al servizio che prevede per tutti gli operatori una adozione di DPI particolari. Come si vede nel filmato nell'ufficio smistamento DPI, viene consegnato al personale la propria dotazione per lo specifico tipo di lavoro ed una volta indossati i presidi, gli operatori si recano negli appositi siti indicati e procedono, come si vede, al ritiro dai reparti dei rifiuti speciali. I rifiuti speciali vengono assemblati nei reparti negli appositi contenitori rigidi a perdere, rigidi di colore nero e poi portati nei siti indicati per essere poi prelevati dai nostri operatori, come si vede, e portati nel locale di stoccaggio. Lì, prima di essere depositati per il ritiro, vengono catalogati e pesati per la corretta composizione della bolla di smaltimento. L'applicazione sul contenitore della scritta COVID-19 permetterà agli operatori della ditta hub ambiente di trattare i rifiuti in modo particolare, soprattutto nello smaltimento in appositi depositi e con modalità particolari. L'adozione di DPI specifici, il corretto utilizzo di questi, permette agli operatori la sicurezza nei confronti di contagio da superfici e soprattutto la propria personale sicurezza, per non mettere a rischio la salute di ognuno che è un bene collettivo.